Carico la schiena, bevo e siamo con i mister. Sono Rixi, Anja, Ana e Sati. Vieni Marta, vieni Marta, vieni Marta dentro. Marta dentro, Marta dentro. Vieni Marta, vieni Marta. Ora vieni difendere, ora vieni difendere, vai. Marta dentro, Anna. Andiamo, andiamo, non fermiamoci, non fermiamoci. E buona, gioca. Facciamo gol, ti amo, ti amo. Continuo, continuo, continuo. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni Marta, attaccati, forte. E ora torna, marca dentro. Vieni, vieni, vieni. Reti, 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 reti! Vieni, vieni. Prima, Briefsman.